Oh, abbiamo avuto fortuna, siamo sull'altra mappa disponibile per la preview Se sull'altra mappa riuscivo a fare qualcosa, su questa non ci riesco per niente, non riesco a giocare su questa Allora, andiamo di qua Prendiamo il DMR subito PAM E SMGs, subito Merda Oh Hai perso il comando No, 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 no Cosa sono riuscito a fare PAM Madò, 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 vai così Ok No, 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 sono un bersaglio facile Madò, madò Scusatemi Ok Oh Ah, sono scudi, sono scudi Eh sì, sono scudi effettivamente utilizzabili questi E che vengono distrutti Eh, l'ho visto, è di qua L'ho visto Porca troia Ah Distrazione Vai, 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 corri, corri, corri Riparati Non ci si può ricaricare la vita Mentre si sta correndo a quanto pare, da quello che ho notato Eh, questo qua mi voleva fottere Merda questo Porca troia Eh, niente, non ce l'ho fatta Ok, quindi se trovo un buon compromesso fra parlato e giocato Dovrei riuscire a cavarmela, dai Si può provare Chi, chi, chi? Oh, primo della classe Eh, non ce l'ho fatta Sono stato pirla, eh Sono stato pirla stavolta Pam Ok Dietro Me la sono parata sui piedi Complimenti Eh, vabbè Devo scappare Ma non c'erano armi Covenant su questa mappa A parte la... No, che tra l'altro poi La spada non è più Covenant Ma è... È prometeica, tipo Io volevo... Volevo un'arma Covenant Vedere il plasma com'era Merda, 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 merda Eh, c'aveva la SMG, sicuro Eh, minchia Quest'arma è troppo potente Sembra... Sembra un sow, praticamente Eh, dove voleva andare questo? Bastardo Di nulla Il nemico è staccato Va tu La torre grande è sottotiro Sei in vantaggio C'è da battaglia Mio Oh Madonna, all'ultimo Nooo, così era una granata Ma che merda Ma guarda dove è arrivata Vai, 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 vai Tra 30 secondi Dai, dai, dai così Voglio provarla Vai Questa arma qui Acceca leggermente Mio Mio Doppia, doppia Quando corri poi ti acceca da morire Ma come cazzo fanno a fare una cosa così Andiamo di qua, ragazzi Sono lì Occhio che sono lì Mio, 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 mio Mio è andato Aiaiaiaiaia Oh, la madonna cosa ho fatto Eh, sì Dammi le SMGs che è potente da bestia Un'altra uccisione Dai che vinciamo Dai che vinciamo Dai, dai, cazzo Abbiamo vinto? Eh, sì Sì, cazzo Dammi il 5, bro Rosica, bastinchio Rosica E per questo primo filmato commentato Direi che ci si può fermare qui Ho fatto una prima partita Dove abbiamo perso Ma sono arrivato primo E per lì nella mia squadra E ho fatto un gran piazzamento E nella seconda partita Abbiamo vinto E ho fatto primo con un distacco allucinante Mi sento un piccolo pro Che bello, che bello Bene, questo è il secondo filmato Dedicato alla beta di Halo 5 E ne arriveranno sicuramente altri Dove io speravo di poter Sparare meno E guardare un pochino più nel dettaglio Le varie funzionalità del gioco Morirò tantissimo Non mi interessa il piazzamento Vorrò farvi vedere Soprattutto il contenuto di questa beta Quindi, alla prossima Grazie a tutti